più in basso un altro quadro dello stesso autore chiamato la notte premiato con medaglia d'oro dell'esposizione dei cechi faceva anche dell'umore e diceva il me martino salsava e torno subito e fina sera dal domenico e l'avevano un po preso in giro perché non capivano un po si arrabbia perché dice ma almeno michelangelo no in realtà neanche michelangelo ma ci stava non era questo il problema per un abitante di corche lui e lui però non fa una colpa a loro vabbè la cosa che comunque voglio dirti è che è grandiosa anche se la vita di martino è una vita fortemente legata alla sua famiglia ma martino è di tutti perché la sua esperienza è un'esperienza che fa che può far riflettere tutti